Benvenuti. Oggi parleremo di una mostra che si è tenuta alla biblioteca universitaria tra settembre e ottobre, dedicata alle mie illustrazioni di libri. Una mostra curata da Maria Angela Bruno e realizzata grazie alla disponibilità del direttore della biblioteca Paolo Giarnone. Una mostra che avrebbe dovuto tenersi a dicembre e gennaio, ma che non si è potuta fare, non si può fare, per gli ovvi motivi pandemici. Prima di illustrare alcuni contenuti della mostra, ecco, forse è il caso che mi presenti. Io sono Guido Rosato e sono stato funzionario per molti anni del Ministero per i beni e le attività culturali e mi sono occupato di allestimenti di mostre, di musei, di restauri. Palazzo Spinola di Pellicceria, Museo archeologico nazionale di Mantua, l'ultimo mio lavoro è stato l'abbazia di San Giuliano. Parallelamente a questa mia attività professionale, però ho sempre coltivato, ho sempre disegnato, ho sempre giocato con le matite e i colori. Quando un po' di anni fa un giovane medico omeopatico, medici omeopatici vogliono sapere tutto della tua vita, forse come dovrebbero fare tutti i medici, e mi ha chiesto se avessi un hobby, io gli ho risposto tranquillamente che io hobby non ne ho, perché non ho mai avuto bisogno di trovare un'attività altra che mi distraesse dalle fatiche del mio lavoro quotidiano, certo la progettazione è fatica, lo stare in cantiere per una direzione lavori è fatica, ma sono sempre stato abbastanza, forse devo considerare fortunato, perché questa mia attività mi ha sempre piaciuto, mi sono sempre divertito. E quindi anche il disegno, il rappresentare le cose in fondo è la mia vita, la mia scrivania è sempre pronta per la mia attività, la mia attività, i pennelli, le matite, gli acquerelli, addirittura arrivato e superato i 50 anni, ormai un po' di tempo fa, non mi sono preoccupato di esporre anche al pubblico le mie opere informali, i miei giochi di carta, questi spazi o questi volumi colorati, colorati col cartoncino e i pastelli. Queste sono immagini del mio studio in occasione di un'apertura per una mostra delle mie opere. Una componente delle cose che faccio è anche quella di illustrare libri. Io ragiono sempre, il mio sguardo compone sempre l'immagine e trasfiguro tutto in rappresentazione grafica, è proprio la mia forma mentis, ecco, per cui, ecco, quando leggo un libro, un libro che mi stimola, non posso non pensare di trasfigurare quello che viene descritto in un'immagine. E questo chiaramente sono stato probabilmente anche condizionato da, come tutti, ecco, voglio dire, dalla cultura, è quello, ecco, l'ambiente che ti circonda, ecco, le letture da ragazzino, io ero affascinato dai libri della scala loro, di mio padre, ecco, libri raccontati, grandi romanzi, racconti, racconti, spiegati, ridotti per i ragazzini, ma avevano le figure, ecco, quindi questi libri illustrati, non so, 20.000 leghe sotto i mari, ad esempio, ecco. Un libro che mi ha affascinato, secondo me non può non affascinare, è un libro di Borges, il libro degli esseri immaginari, ecco, con queste descrizioni di animali fantastici che vengono da leggende, da miti, da, da, e non poteva non stimolare la mia fantasia, ecco, al disegnare, appunto, questi, questi esseri, ecco, l'ippogrifo, la chimera, l'elefante che copre, che copre tutto, tutto, tutto il mondo, ecco, e così, e così via, l'idra, l'idra dalle cento teste, ecco, e qui, ecco, chiaramente, poi si combinano gli stimoli del libro con il mio mondo, ecco, io mi occupo di archeologia industriale e quindi non potevo non inserire l'idra in una fabbrica, in una fabbrica di smessa. Ma a proposito di mondi fantastici, ecco, il libro di Manderville, la descrizione delle cose meravigliose del mondo, un testo tracentesco, ecco, anche lì non ha stimolato, ecco, tutto, tutto, tutta la mia, la mia fantasia, ecco, anche qui è un repertorio, cioè un repertorio di, di immagini, di situazioni, di personaggi che Manderville prende, dalle leggende del suo tempo, dalle storie del suo tempo, da racconti biblici, ecco, il mondo, il paese di pretegianni, la chimera, vediamo, vediamo, ecco, non so, la distruzione di Gomorra, ecco, che, ecco, l'ira divina viene, 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 viene travolta, ecco, dal, dal, tempesta, terremoti, maremoti, ecco. E a proposito di cose fantastiche, non potevo non passare poi per il barone di Monshausen, ecco, questo sparapalle del Settecento, ecco, che racconta, ecco, tutte le sue, le sue avventure, anche queste mi hanno, mi hanno chiaramente stimolato, ecco, il cavallo diviso a metà da una porta che si chiude, il viaggio sulla luna, il cannone immenso portato, portato a spalle, ecco, o la mongolfiera, la mongolfiera che porta, che porta una carrozza, eh, sulla quale c'è anche uno spiedo, ecco, cose, cose incredibili, ma, che mi permettono, ecco, di lavorare di fantasia, ecco, con, 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 con la matita, con, 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 con la pena. I classici, i classici, ecco, i viaggi di Gulliver, anche qui altri mondi, che lui, mondi strani, che lui incontra quando, quando è piccolo rispetto all'esterno, oppure è troppo, è troppo, è troppo grande. E anche qui, ecco, la possibilità di spaziare, di divertirsi, ecco, la macchina che lui incontra in un paese, che è una macchina che è stata costruita per realizzare tutti i testi del mondo, per cui, combinando tutte le lettere, simboli grafici, le lettere, si mescolano e diventano, e diventano libri, ecco, a questo punto lo potevano disegnare, a proposito di archeologia industriale, disegnare una macchina, ecco, che combina le lettere con gli omini che manualmente, con delle leve, i granaggi fanno, fanno, creano, creano questo, questi testi. O in quel paese, sopra la terra, ecco, che Gulliver raggiunge, raggiunge con una, con una scaletta. O ancora Gulliver piccolo, che scala al corpo di una donna. Oppure il Parlamento, un Parlamento di un altro paese, dove i rappresentanti del popolo sono tutti addormentati, mezzi ammalati, che vengono tenuti in vita da flebola, da catoplasmida, e qui chiaramente c'è tutto il riferimento di Swift, ecco, la critica, tutta la critica sociale di Swift, ecco. Mi sono cimentato anche, con dei testi, con dei testi illustrati, illustrati tante volte, e probabilmente in maniera più degna della mia, ecco, il Moby Dick di Melville, è un testo che, chiaramente, sappiamo benissimo, che contiene non solo il racconto di una caccia, di una caccia alla balena, ma è un testo anche con riferimenti religiosi, biblici, è un testo scientifico dedicato alla caccia alle balene, alla pesca nel balene, alla caccia e alle balene. Qui ho combinato il mio disegno di fantasia con una serie di immagini, di altre immagini. Ora, quando io affronto questi testi, chiaramente devo fare una ricerca, una ricerca iconografica, cioè chi ha rappresentato prima di me quel testo, per confrontarmi, per capire, tanto non si inventa niente, non c'è problema, ecco. E poi testi scientifici, ecco, che supportino quello che io voglio disegnare. Ho cominciato proprio col Mobidic, ecco, perché io ho studiato le imbarcazioni che usavano, uno dei miei interessi è anche quello del patrimonio marittimo, ecco, le imbarcazioni da lavoro, per cui chiaramente mi sono messo a studiare la lancia baleniera e le navi baleniere. Quindi in questo caso vediamo Aqab che parla all'equipaggio con una baleniera, Aqab che studia il castello di Poppa con un'immagine di un capodoglio, di una balena, un'immagine ottocentesca. La caccia, il secondo giorno di caccia, l'ultimo giorno in cui Mobidic attacca, si difende, e qui vediamo appunto una lancia baleniera, vediamo un testo biblico del Seicento, riferimento a Giona, Giona la balena. Vediamo poi l'epilogo di Samuele con la baleniera che affonda e Mobidic ovviamente che va per i fatti suoi. Sul fondo del mare, Nantuket, come era nell'Ottocento, una città medievale e una città contemporanea, quindi sempre riferimenti con l'attualità, ecco. Un altro testo che mi ha incuriosito per due ragioni, una perché è di Corrad, uno dei miei autori, uno degli autori che amo di più, l'altra perché è dedicata a Genova. Io non ho posizioni campanelistiche, non sono uno di quelli nostalgici, la mia pace è il mondo intero, la mia fede è la libertà, come dicevano gli anarchici nell'Ottocento, però a Genova io sono legato, cioè non c'è problema, ecco, quindi la mia città la disegno, ecco, poi tra l'altro sarà occasione forse di un'altra mostra, ecco le mie immagini della città. E quindi Suspes di Corrad, ambientato a Genova, mi ha incuriosito e ho provato appunto a disegnare, a raccontare quelle vicende di questo ufficiale inglese che arriva a Genova, cerca una donna che ha amato. Genova in quel momento è in situazione appunto di sospensione perché non sa bene quale sarà il suo destino, siamo durante il congresso di Vienna, non sarà più Repubblica con chi andrà e quindi c'è tutto un mondo in sospensione appunto. E quindi mi sono divertito a disegnare, a disegnare appunto le vicende con delle immagini, diciamo, riprese dall'ecologia di Genova, ecco, un centro storico, una taverna, Palazzi Nobiliari, Porta del Molo, Porta del Molo con un'immagine settecentesca e il mio disegno. Poi c'è l'attratura contemporanea, o comunque più vicina a noi, ecco, uno degli autori che amo molto è Italo Calvino e ho affrontato il Marco Valdo, le stagioni in città, illustrando volta per volta appunto tutte le avventure di Marco Valdo. Marco Valdo è un... Calvino è sostanzialmente un contadino, un contadino meridionale in urbato a Torino, siamo negli anni della grande migrazione degli anni 60, ecco, ma secondo me l'indadeguatezza di Marco Valdo e i suoi tentativi, ecco, di riscattarsi, di trovare un posto nella società o comunque anche solo di sopravvivere, ecco, sono... rappresenta un po' tutti noi, ecco, è per quello che ho rappresentato Marco Valdo come un manichino, ecco, un manichino da belle arti. Ancora... ecco, il disegno è una consolazione, è un modo anche per... forse anche per isolarsi dal nudo, comunque... è una componente fondamentale, vi dicevo, della mia vita, anche nei momenti, anche nei momenti difficili, anche in forma di riscatto, di difesa. le cosmicomiche che ho provato a illustrare, ecco, sono nate, sono nate in un momento in cui io disegnavo, ma ero ricoverato, ricoverato in ospedale, ecco, però questo mi ha aiutato, poi gli schizzi che ho realizzato sul letto sono diventati poi le illustrazioni delle... delle cosmicomiche... su questo tema, le origini del mondo, ecco, chi siamo, da dove veniamo... e... ecco allora che sono nate, appunto, le cosmicomiche, ecco, quando la Terra era... la Luna era così vicina alla Terra che... che ci si poteva salire... le origini delle parole, del mondo... quando la Luna era... era molle e... e quindi... le gocce di Luna cadevano... cadevano sulla... 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 sulla Terra... o il vortice, ecco, della creazione... della creazione del mondo... Obiettivo... sicuramente più ambizioso... perché... una bella storia lì, di... di immagine tratte dalle metamorfosi di Ovidio... ma ci ho voluto provare anch'io... per gioco... presunzione... e... e quindi ho provato a illustrare alcune... alcune... vicende delle... delle... delle metamorfosi... questo mondo in trasformazione... questo rapporto tra gli uomini di dei, ecco... e... 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 e però chiaramente non potevo, ecco, anche qui divertirmi... all'ambientarlo anche... nel... nel mondo contemporaneo... perché il mito... non esiste... ma... ma c'è sempre, ecco... e quindi... e quindi... vediamo... vediamo... Giove e Europa... sulla... sulla spiaggia della Riviera... o... 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 Diana e Ateone... eh... sull'acquedotto, ecco... con un ripartitore dell'acquedotto storico... ecco... eh... Mercurio e Argo, ecco... ma ci sono anche le galline che razzolano, ecco... eh... come... come realizzo queste... queste mie... questi miei disegni... beh, la mia generazione... forse era fortunata, non lo so... però... ha imparato a disegnare con riga, squadra, in maniera tradizionale... la penna, la lapidogram per i disegni tecnici... eh... però è stata travolta anche dalla... dalla rivoluzione digitale... quindi ha dovuto imparare a usare... a usare il computer... per... per il disegno tecnico... per le illustrazioni... eccetera... e diceva... è fortunata perché... almeno per quanto mi riguarda... ecco... riesco a cavalcare... sia il modo tradizionale di disegnare... che appunto... le nuove... le nuove... le nuove tecnologie... faccio... faccio un esempio... rapido... ecco... questi sono due disegni che avevo fatto... per l'illustrazione di... Alice nel Paese delle Meraviglie... le ha viste un'amica... e che bello... mi piacerebbe che facessi un trampleur... dedicato all'alice... per... per la mia casa nuova... e così... e così ho fatto... ecco... un disegno... primo schizza matita... poi un disegno a penna... poi un perfezionamento... poi a questo punto... il disegno a mano libera... diventa... diventa... viene acquisito... diventa un disegno... trattato con un programma... con un programma di grafica... questo è il risultato finale... che è diventato un file... e a questo punto... il file è potuto essere stampato... su tela... per un metro... di pensione... un metro e mezzo... per tre metri... da autostampatore professionista... ovviamente... e questo è il risultato... nella... nella casa... di questo... io potrei parlarvi... a lungo... per l'attenzione... eh... con un autopinocchio... ecco... un disegno che avevo fatto... per il Museo Lussati... un concorso che avevo fatto... poi è finito... chiaramente... non... 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 non è un punto esito per me... ecco... ma mi sembrava che... ecco... è simpatico... finire con... con il mio mondo... inghiottito... da una balena... grazie... grazie... grazie ancora...